Non si arrestano le proteste popolari in Thailandia. Più di mille giovani, soprattutto studenti delle superiori e universitari, si sono radunati questo sabato in una delle principali vie dello shopping a Bangkok per protestare contro governo e monarchia. Chiedono una riforma dell'istruzione, ma non solo, vogliono anche dei cambiamenti a livello politico. Martedì scorso migliaia di persone si erano radunate davanti alla sede del Parlamento per chiedere le dimissioni del premier e una riforma costituzionale che limiti il potere della monarchia. La polizia aveva disperso la folla con idranti e lacrimogeni, più di 50 le persone ferite.